Uno degli elementi chiave della rete dell'apprendimento sono le attività individuali o di gruppo. Le attività mettono in relazione gli attori dell'esperienza d'apprendimento fra di loro e con l'ambiente, catalizzando le esperienze e generando un apprendimento profondo e durevole, così come dimostrato da molti studi. Molti modelli pedagogici affidano un ruolo importante all'attività dello studente, partendo ciascuno da stimoli iniziali diversi. Esercitazioni, per lo più individuali, proposte dalle prospettive di tipo associativo, immersione in esperienze concrete, esplorazione e soluzione di problemi, fino ad arrivare ad un'attività collettiva di ricerca, connessione e rielaborazione del sapere. Anche l'approccio Flipped Classroom si basa sulla valorizzazione massima del momento d'aula, per l'applicazione delle conoscenze in una dinamica di interazione con il docente e con i pari. Tutti questi modelli mirano a creare contesti di apprendimento attivo, ossia contesti nei quali gli studenti sono stimolati ad acquisire nuove conoscenze, abilità o competenze, partecipando in classe e interagendo fra loro. In questo paradigma, la didattica attiva si affianca alla didattica frontale. In un paradigma basato sulla didattica frontale, principalmente, si tende a partire dai contenuti, ossia da cosa insegnare e da come trasmettere il contenuto. Se a questo paradigma si affiancano modelli di didattica attiva, il focus tende a spostarsi sui risultati di apprendimento attesi, ossia da cosa lo studente deve padroneggiare e come si può fare per aiutarlo a raggiungere questi obiettivi. Naturalmente non esiste una soluzione valida in modo assoluto e spesso gli obiettivi possono essere raggiunti da una integrazione dei due approcci. Per stimolare un apprendimento che risulti profondo, è necessario quindi trovare il giusto mix di didattica frontale e didattica attiva, mix che deve ovviamente tener conto delle esigenze di copertura tematica, dei tempi a disposizione e del numero degli studenti. In questa alternanza di didattica frontale e didattica attiva, le attività risultano crociali in entrambi i momenti. Anche nei momenti di didattica frontale, attività brevi possono essere infatti utilissime per risvegliare l'attenzione della classe e agevolare l'apprendimento efficace dei contenuti. Passando da un paradigma che si basa principalmente sui momenti di didattica frontale a un paradigma che valorizza i momenti di didattica attiva, cambia anche il ruolo del docente, che passa da docente oratore a docente designer. Mentre il docente oratore ha il pieno controllo di quello che succede in aula, il docente designer deve stimolare la partecipazione alle attività attraverso continui feedback, sia in termini di contenuto che di processo. In questo contesto, la sensazione potrebbe essere quella di perdere il controllo dell'aula, sia in termini di quali contenuti sono stati passati, che di gestione dell'aula. Quali accorgimenti è possibile mettere in campo per ridurre la sensazione di perdita di controllo, anche nei contesti di classe numerose? Il primo accorgimento è proporre sfide prossimali, ossia che siano abbastanza sfidanti, ma senza essere impossibili da raggiungere. La seconda cosa da ricordare è che il docente è il regista e facilitatore dell'esperienza di insegnamento-apprendimento, ma soprattutto ne è il leader e deve quindi fornire regole e obiettivi chiari. Un momento di cruciale importanza è quello del patto formativo. All'inizio del corso, il docente deve dedicare tempo a spiegare obiettivi e modalità del percorso e sottolineare l'importanza della partecipazione attiva. Per il rispetto del patto formativo, il docente può farsi aiutare anche dagli studenti, che possono mettere in atto azioni di controllo e collaborazione sociale se percepiscono che la mancata collaborazione di alcuni va a discapito delle attività di tutti. Un altro accorgimento è prevedere momenti di feedback e confronto con l'intera classe, utili al docente per eventuali riassestamenti e per rifocalizzare gli obiettivi del percorso e le regole del gioco. Si può inoltre valutare la possibilità di offrire una qualche forma di incentivo legata all'attività, sia in termini di partecipazione che di qualità di partecipazione, come ad esempio un bonus che integri la valutazione finale. È infine grazie anche all'atteggiamento del docente e alla qualità del suo stare in aula che si percepisce il valore della didattica attiva. Durante l'esercitazione, ad esempio, è importante resistere alla tentazione di dedicarsi ad altro mentre gli studenti lavorano e girare tra i banchi per stimolare la richiesta di feedback e individuare situazioni di stallo. Per concludere, progettare il giusto mix di didattica frontale e didattica attiva è fondamentale per stimolare un apprendimento profondo. Il docente, inoltre, ha a disposizione diverse strategie in questo nuovo ruolo di facilitatore delle dinamiche di apprendimento attivo.